Avvicinare gli studenti alla realtà della prevenzione come strumento per risolvere il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro. È stato l'obiettivo del concorso Primi in Sicurezza, promosso dall'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro e dalla rivista Mensile Ok, che lo scorso anno ha visto partecipare gli studenti della scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni di Barletta. Per l'occasione questa mattina si è svolta una cerimonia di riflessione sul tema sicurezza nei luoghi di lavoro alla presenza degli studenti che hanno preso parte al concorso con la realizzazione del Rep della Sicurezza. Abbiamo ritenuto opportuno proprio organizzare una giornata di educazione e formazione su questo tema molto delicato che deve essere assolutamente, in tutte le sue sfaccettature, interiorizzato profondamente e consapevolmente da parte di tutti e soprattutto dei futuri cittadini che noi come scuola cerchiamo di formare. Un luogo di lavoro non è soltanto il luogo in cui qualcuno lavora, ma praticamente tutti i luoghi sono luoghi di lavoro quindi lo è il bar, lo è la scuola, lo è la palestra, lo è l'automobile, lo è la strada per cui anche se la legge stabilisce che ciascun luogo di lavoro ha anche i suoi responsabili della sicurezza ciò non toglie che ognuno deve fare la propria parte per sé e per gli altri. Nello scorso anno, dopo aver letto diversi articoli che parlavano purtroppo delle morti bianche è venuta l'occasione di partecipare a un concorso che ha dato la possibilità ai ragazzi di esprimere quanto avevano appreso quanto avevano riflettuto insieme attraverso lavori di gruppo, dialoghi, dibattiti in classe di riferirlo a livello nazionale con uno dei loro linguaggi privilegiati quello del corpo, quindi hanno ballato un rap e hanno scritto il testo di una canzone che appunto in maniera semplice, e questa è la nostra soddisfazione ha detto a tutti quanto fosse importante il rispetto delle norme. È necessario sviluppare una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ha spiegato il responsabile della sede INAIL di Barletta, Guglielmo Leo, che ha preso parte all'evento. La cultura della sicurezza nasce proprio dalla scuola e spostare l'attenzione nei banchi di scuola è una cosa fondamentale ed importante dobbiamo essere tutti attori e partecipi di questo evento fondamentale perché un infortunio, una malattia professionale è una tragedia non per la famiglia è una tragedia per questa società e non ce la possiamo permettere. Una giornata importante per gli studenti e i loro genitori che hanno potuto ascoltare testimonianze vive di storie di infortunio così da avere una maggiore consapevolezza di cosa accade quando la prevenzione fallisce e quali conseguenze ci si ritrova a vivere quando si subisce una invalidità permanente o quando si contrae una malattia professionale.